Acquisti, musiche, divertimento e cene all'aperto sotto il luminoso cielo d'estate. Sabato 6 luglio, in occasione del primo giorno dei saldi estivi, torna ad Arezzo la magia di shopping sotto le stelle. Una serata tutta da vivere, con sconti e promozioni in oltre 300 attività del centro storico, e poi scuole di ballo, animazioni, spettacoli. Davvero una serata da non perdere nel centro storico di Arezzo, su iniziativa di Conf.Merci. Con oltre 300 attività coinvolte, il centro si trasformerà in un grande festival aperto, con negozi aperti fino alla mezzanotte, aperitivi, DJ set, musica, intrattenimento e cene sotto le stelle. È un momento molto importante, è l'inizio dei saldi. I saldi, come sappiamo, durano 60 giorni, a partire dal 6 luglio, e proprio nei primi 15 giorni dell'inizio dei saldi è il momento, diciamo, clu. Per cui, insomma, con questo evento noi vogliamo dare una spinta all'inizio dei saldi, e soprattutto far sì che le persone che vengano in centro per fare dei acquisti possano trovare anche dei momenti di divertimento e rimanere ancora di più, e so stare di più in centro e divertirsi. Torna anche la notte dei colori con il lancio di oltre 2000 palloncini a tempo di musica, e poi fiesta latina e spettacoli danzanti. Quindi occasione di sì acquisto, sì affari per i commercianti del centro, ma anche un'occasione di socialità per la gente che in quel sabato verrà in centro e approfitterà, oltre che dei saldi anche delle iniziative molteplici che sono previste in questa occasione. Novità di quest'anno, la collaborazione con Casa Bruschi per promuovere l'arte e la cultura con il traino dello shopping. Chi farà acquisti nei negozi del centro durante la serata potrà infatti presentare lo scontrino al museo per visitare al costo speciale di un euro la mostra La Libera Maniera, arte astratta ed informale nelle collezioni di Intesa San Paolo.